Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro di prima mattina, la nostra rassegna stampa, il buongiorno insieme a me ve lo porge al di là del vetro il regista di questa mattina che è Giancarlo, Giancarlo Rapagnà che è qui con me questa mattina per proporvi ovviamente la lettura dei quotidiani, dobbiamo stare a casa e quindi magari diamo una mano per passare un'oretta insieme ad informarci un po' in questo giorno speciale perché oggi è il giorno, il 25 aprile, è la festa della liberazione, la festa della liberazione la 75esima festa della liberazione perché ricordiamo oggi il 25 aprile del 1945 per chi magari se ne fosse un po' dimenticato, celebriamo la liberazione dalla dittatura, dalla dittatura fascista, dall'oppressione nazista, dalla fine della guerra sanguinosa per milioni di italiani è questa la festa della liberazione, è semplicemente e meravigliosamente questa, è quel giorno in cui abbiamo riacquistato la libertà, la libertà adesso stiamo capendo forse in questi giorni che per un'emergenza sanitaria pesante è stata limitata la nostra libertà di movimento, bene 75 anni fa prima, gli anni prima soprattutto gli anni della guerra non c'era nessuna libertà, non c'era la libertà di opinione, non c'era la libera stampa, insomma mancavano le libertà fondamentali, se eri di un altro parere politico non potevi manifestare le tue idee, ricordo che mi raccontava Spartaco di Pietrantonio, un partigiano terramano che ogni primo maggio il padre veniva, prima del primo maggio veniva incarcerato perché insomma era di idee diverse da quelle dominanti, da quelle fasciste, veniva incarcerato perché magari il primo maggio poteva dare fastidio con qualche rivendicazione a nome dei lavoratori in quel periodo ecco questa era la dittatura e questo celebriamo noi oggi, la festa della liberazione, non è che c'è bisogno di dargli qualche altra motivazione. Allora vediamo la prima pagina dei giornali, cominciamo con il centro, calo dei contagi, record 18 in un giorno in Abruzzo, l'esperto, finalmente i numeri iniziano a scendere ma tra i decessi c'è una 37enne e questa non è per niente una bella notizia. Mappa dei casi comune per comune, arrivato il macchinario che fa 2400 test in 24 ore. E poi la fotonotizia centropagina, il saluto del partigiano il 25 aprile in Abruzzo, Gilberto Malvestuto, 99 anni, ultimo ufficiale della Brigata Maiella, ancora in vita e ospite in una RSA di Sulmona e racconta la sua resistenza. Beh a lui gli auguri sono doppi per questa festa. Primo piano, intervista al Rettore Caputi, Ateneo, lezioni online ancora per molto tempo. Pronto l'elenco, 1000 euro scelte le 8000 famiglie e poi zona rossa addio ma la paura resta. I sindaci della Valfino ora non dobbiamo essere abbandonati, servono subito i sostegni. I sindaci della Valfino sono soddisfatti per la revoca dei vincoli della zona rossa ma uniti nel chiedere di non essere abbandonati per i sostegni economici necessari per far ripartire le attività imprenditoriali. Tortoreto Pedicone riapro l'acquapark se le norme lo consentono e poi Giulianova sbeffeggia la liberazione, consigliere deve dimettersi, ce ne siamo occupati anche noi ieri nel corso del nostro telegiornale. Questi i titoli della prima pagina del centro. sopra la testata il personaggio Lino Guanciale, recita Ignazio Silone online per il Teatro Sirena, popolarissimo attore Lino Guanciale ed è di Avezzano. Allora lasciamo la prima pagina del centro, andiamo a vedere la prima pagina del messaggero, vediamo prima la prima pagina nazionale, poi andiamo a vedere quella d'Abruzzo. Permessi e divieti così si riparte, domani linee guida, lunedì decreto, governo diviso, mascherine obbligatorie soltanto nei luoghi chiusi, questa dunque è la tendenza al momento. Da metà maggio gli spostamenti tra regioni, si potrà tornare a far visita ad amici e familiari, scrive in prima pagina il messaggero nazionale. Poi vedete Roma, prove di metro contingentata, certo per non creare assembramenti anche sopra ai vagoni della metropolitana. Controllo agli ingressi, distanza in stazione, fermate dei bus, sicuramente non è facile. Poi la Lombardia, meno 260 posti, rischio lockdown, le regioni riducono le terapie intensive, l'allarme dell'esecutivo però è troppo presto. E poi i bondi europei, l'incognita di tempi e cifre, ma il passo in avanti c'è l'articolo E di Romano Prodi, lo vedete di spalla a sinistra. Ancora cura da 150 miliardi, Vestager, l'Europa non si limiti ai prestiti, ok al DEF tra bonus e fondi alle imprese. E poi qui sotto a fondo pagina, Trivulzio, nuovi indagati tra i vertici, scatta il blitz e denassa nelle RSA di Lodi ed intorni. E poi il messaggio per il 25 aprile del Presidente della Repubblica Mattarella, l'Italia saprà ricominciare come allora il Paese si rialzerà, uniti intorno al tricolore, oggi come nella primavera del 45, quando l'Europa vide la sconfitta del nazifascismo e dei suoi seguaci. Il messaggio del Presidente della Repubblica per il 75esimo anniversario della liberazione stavolta è scritto, l'obiettivo è valorizzare lo spirito di riscatto che oggi, come allora ha detto Mattarella, permetterà all'Italia di superare ostacoli che sembrano insormontabili. L'incipit è chiaro e supera ogni discussione polemica su quali siano le radici della Repubblica e della Carta Costituzionale. E poi negli Stati Uniti d'America usa la cura shock di Trump iniezioni di disinfettante. I medici subito dicono ovviamente non fatelo, lui scherzavo, uno scherzo davvero, se lo poteva davvero risparmiare il Presidente degli Stati Uniti, non nuovo a queste uscite di lato, di tre quarti, non lo so, le possiamo definire come ci pare, ma sicuramente non centrate. Questa invece è la prima pagina del messaggero d'Abruzzo. Stroncata dal virus a 37 anni, questa è l'apertura, è una donna di Pescara, la vittima più giovane. Emozione in città nel giorno in cui l'Abruzzo registra la prima inversione di tendenza. Parruti è ottimista, è revocata la zona rossa in Valfino. E poi invece fuori dal coro Grimaldi sui Covid Hospital, senza personale, solo scatole vuote, dice va bene potenziare gli ospedali Covid, 200 posti letto a Pescara, 140 all'Aquila, 80 a Teramo, ma si rischia che rimangano scatole vuote dai costi altissimi se non avranno un numero adeguato di personale specializzato. E' netto il primario aquilano Alessandro Grimaldi. E poi sequestri a Pescara, la fotografia Folle, scusate, Folle fila a Montesilvano. Guardate, mascherine fra caos e truffe, oltre 21 mila pezzi sequestrati per la ressa alla distribuzione, il sindaco attacca la stampa. Poi magari lo vedremo all'interno. In questo articolo di Spalla ecco i tecnici per supportare la didattica a distanza, ovviamente la scuola che si attrezza, stanziati 2 milioni per tablet e computer, formazione in arrivo per i docenti. Consigliere comunale si dimette per un post contro la resistenza, è quello che è successo ieri a Giulianova. Difficile vigilia del 25 aprile a Pescara sfuma il tentativo di escludere Lampi. Gli articoli sono di Francesco Marcozzi e di Ricci. Un consigliere comunale di Giulianova, Simone Paesani, eletto con la civica verso in appoggio al sindaco Ivan Costantini, si è dimesso dopo aver pubblicato un post oltraggioso nei confronti dei valori della resistenza, il sintomo più clamoroso di una vigilia del 25 aprile tormentata, non soltanto dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. A Pescara è sfumato all'ultimo il tentativo dell'amministrazione di centrodestra di escludere Lampi dalla celebrazione in forma ridotta davanti alla lapide che ricorda le vittime della guerra di liberazione. Lampi sostiene anche la maratona web sulla ricorrenza del flash mob per cantare bella ciao dai balconi. Insomma escludere Lampi dalla celebrazione il 25 aprile sembra davvero un po' troppo visto che rappresenta i partigiani Lampi. Arma, notte di fuoco con rogo e bomba carta e poi Pescara, casa per pazienti, ecco il contratto che premia la cura, la curia scusate, e a Chieti la svolta, rogo di rifiuti, indagato Bellia. Vediamo invece proprio sotto la testata, ripartire 1 la nuova mobilità, Pescara punta sui monopattini, pronto il progetto, ripartire 2 ristoratori, speranze e timori dopo il via libera all'asporto che è stato dato praticamente ieri. In serie B il calcio, Cascione dovevo venire a Pescara per la Pasqua. Questi i titoli della prima pagina del messaggero, adesso andiamo a vedere la città che ripropone in prima pagina ovviamente la campagna che sta facendo da giorni, io leggo a casa, il bisogno dell'informazione ovviamente è legata alla prima pagina, la seconda, andiamo subito a vederla, eccola qui, riusciamo ad ingrandire, ci fa sempre qualche piccolo problema, eccola. Campagna io leggo a casa, così descriviamo chi fa da testimonial questa mattina, a questa campagna, in prima pagina abbiamo visto il ristoratore Domenico Vannucci che appunto ha abbracciato la campagna della città, io leggo a casa la città 2020 e poi vediamo un volto popolare, quello di Tania Bonnici Castelli, è una collega ma qui soprattutto rappresenta la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo che presiede, è presidente proprio della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo Tania e poi vediamo in fondo a destra l'avvocato, nonché uomo politico della nostra provincia, Vincent Fanini, che fanno dunque da testimonial a questa campagna della città. Allora adesso torniamo al centro, andiamo a sfogliare il quotidiano d'Abruzzo, andiamo subito a pagina 2. L'Abruzzo spera davvero coronavirus, la mappa del contagio, la notizia dolorosa però, morta a Pescara una 37enne, la vittima più giovane, arrivata dalla Cina, la macchina che fa 2.400 tamponi al giorno e nello specchietto riassuntivo il centro mostra la mappa del contagio in Abruzzo, solo 18 contagiati, il dato più basso da inizio crisi, casi positivi in regione, la mappa aggiornata comune per comune. Vediamo l'attacco del pezzo di Lorenzo Dolce, mai così pochi contagi da Covid-19 in Abruzzo, su un totale di ben 1.732 tamponi analizzati, i positivi sono solo 18, vale a dire l'1%, il dato più basso registrato dall'inizio dell'emergenza, mentre il virus sembra rallentare la sua corsa a Pescara arriva finalmente il super macchinario in grado di fare 2.400 test al giorno, atteso da settimane. In poche ore diverse notizie positive, cui si aggiunge la revoca della zona rossa, ma la giornata è segnata anche da un dramma, la più giovane vittima in Abruzzo, una donna di 37 anni. La diffusione del contagio dunque rallenta, ma i numeri restano imponenti. Nel corso delle settimane la mappa del coronavirus in Abruzzo si è ampliata ogni giorno di più e a guardare i dati comune per comune in testa c'è sempre Pescara con 457 casi, seguita da Montesilvano con 208, Penne 121, Chieti e Teramo 110. Al di sotto dei 100 casi ci sono Città Sant'Angelo con 95, Castiglione Messerraimondo con 82, Lanciano 72, Atri 69, Ortona 67, Francavilla al Mare 59, Spoltore 53. Sono sempre numeri ovviamente preoccupanti e comunque in questo, lo vedete, in questo box poi il centro ricorda i casi comune per comune in tutto l'Abruzzo. Regione si riparte, annullate le zone rosse, riaperta anche la Valfino, via i blocchi a Castiglione Messerraimondo e in altri quattro paesi. Guarisce il sindaco Marsilio, guarisce il sindaco, scusate, di Castiglione Messerraimondo ieri ha dato notizia della guarigione completa perché è risultato negativo anche l'ultimo tampone fatto. Marsilio invece firma l'ordinanza dopo un mese e mezzo, bel segnale di speranza. Eccolo qui nella foto di Luciano Adriani, il giovane sindaco di Castiglione Messerraimondo, Vincenzo Odercole all'uscita di casa. Mercoledì scorso era stata la volta di Villa Caldari di Ortona mentre lunedì 20 il provvedimento aveva riguardato Penne e gli altri paesi in provincia di Pescara. Divieti tolti dopo la relazione epidemiologica dell'asale di Teramo. 152 contagiati e 592 in sorveglianza. La prevenzione dovrà continuare attraverso i tamponi alla popolazione. E dunque il sindaco guarito, la revoca della zona rossa coincide con la guarigione del sindaco di Castiglione Vincenzo Dercole. Un altro segnale di speranza, giustamente scrive il centro. E intanto guardate qui in questa foto, il professor Fazzi accanto al macchinario per i tamponi è arrivato ieri dalla Cina, pesa 800 kg, fa 2400 test al giorno. E questo è molto importante. Gli aiuti economici, 1000 euro per le famiglie, scelto l'elenco di 8000 nomi, quasi 20.000 domande arrivate in regione, i pagamenti entro i primi di maggio. Vista la mole di domande, nella riunione dei capigruppo, è stato stabilito di elevare il budget a una forbice che oscilla tra 8 e 12 milioni di euro, secondo le disponibilità di cassa. I beneficiari verranno avvisati tramite mail. Al termine dell'istruttoria, l'accredito del bonus avverrà direttamente sul conto corrente bancario o postale. Per le prime tre fasce, famiglie con disabili con tre o due figli a carico, sono pervenute 8.600 pratiche, fondi destinati esclusivamente all'acquisto di genere alimentari o medicinali. Edilizia scolastica sbloccati, 11 milioni per l'Abruzzo, l'annuncio del deputato Colletti. E poi sindaci commissari per l'emergenza, la richiesta dei primi cittadini alla regione, il vicepresidente del Lanci, Micucci, dice possiamo gestire la fase della ricostruzione. E poi la fase 2 degli automobilisti, come far ripartire la macchina addirittura. I consigli dopo il lungo stop forzato, ma insomma saranno scesi un attimo magari ad accendere la propria automobile, controllare però, i consigli sono sempre utili, controllare la batteria dell'auto e la pressione delle gomme, poi lavare la vettura e fare il pieno, insomma un piccolo va-de-mecum stile quattro ruote. Cibo d'asporto, le regole da rispettare, prenotazioni sul web o telefoniche, contenitori lavabili, e ritiro senza contatti ravvicinati, ovviamente occhio alle regole, ma sicuramente le faranno rispettare proprio quelli che preparano i cibi d'asporto. Coronavirus, i consigli dei medici, parla l'esperto degli occhi, nuove regole per evitare il contagio. Il professor Mastro Pasqua dice lavare spesso gli occhiali e usarne tipi specifici in ospedali e fabbriche. Chi ha patologie oculari croniche, deve continuare i controlli. Le urgenze sono sempre garantite, poi per l'epidemia i numeri verdi utili per l'emergenza, sempre ribaditi dal centro. La guida, bufale sui vaccini, come scoprirle, allarme dell'osservatorio, il social terreno fertile per le fake news, ma insomma lo sappiamo ormai, non solo nel caso della pandemia, ma insomma le fake news proprio abbondano sui social. Operatori sanitari, test online, esami sbloccati per favorire assunzioni negli ospedali, la delibera voluta dall'assessore regionale Veri, che la vedete a destra con la mascherina, tutto avverrà in maniera telematica, così gli allievi prenderanno l'attestato nonostante le restrizioni da Covid-19. Il futuro dell'università, caputi più lezioni online, Ateneo D'Annunzio, il rettore intervistato da Reteotto e il centro, spiega la fase 2, faciliteremo la didattica telematica soprattutto per specifiche materie teoriche. Il papà di Noemi, Mattarella Ci Aiuti, lettera di Sciarretta al Presidente della Repubblica per tutelare i genitori che fanno assistenza. Andiamo ancora avanti, giriamo pagina, ecco la resistenza che non è mai finita. Malvestuto, i medici di oggi sono partigiani come ero io, la prigionia a 99 anni dell'ultimo ufficiale sopravvissuto della gloriosa Brigata Maiella. Mia madre, eccolo qui il signor malvestuto, mia madre mi raccontava della spagnola, non avrei mai immaginato di essere protagonista di una cosa del genere, anche Mattarella non può uscire. Dobbiamo rispettare la quarantena, dice ancora, ma mi mancano molto le visite e gli abbracci della mia famiglia, in questo momento sarebbero la vera libertà. Abolire la festa della liberazione? C'è gente che può parlare grazie ai nostri sacrifici, non dovrebbe mai dimenticare i valori della democrazia, racconta il partigiano. E vedete qui in queste foto a sinistra il tenente Gilberto Malvestuto nel 1944, sopra alcuni partigiani della Brigata Maiella, che vi ricordo liberarono anche Bologna, e poi a destra il 99enne, oggi nel centro per anziani di Sulmona, insieme alla coordinatrice Meri D'Artista. E dunque c'è questa intervista a Malvestuto, al partigiano della Brigata Maiella. Tricolori e canti dai balconi, così l'Abruzzo ricorda i suoi caduti, la guida alle cerimonie, ovviamente saranno cerimonie senza partecipazione di pubblico, come avverrà a Teramo. Il sindaco di Teramo si recherà al monumento alla resistenza, al partigiano, quello di Müller, che è in Largo Madonna delle Grazie, proprio fuori dall'arco di Porta Madonna, lì depositerà una corona, alle 10, poi alle 10.30 andrà ai Tigli a deporre un'altra corona, e quello è il luogo tipico, sia quello di Largo Madonna delle Grazie, che quello dei Tigli, dei giardini che sono intitolati a Carino Gambacorta, e sono i luoghi simbolo delle rappresentazioni terramane, anche per tutta la provincia, spesso si ritrovano anche i sindaci della provincia, insieme al sindaco L'Aperto, al prefetto, alle autorità ovviamente militari, civili e religiose. E questa mattina invece saranno in pochissimi, ovviamente ci sarà il sindaco a depositare questa corona, e chi lo vorrà potrà, come da dire, collegarsi idealmente con questo momento. Alle 10, in Largo Madonna delle Grazie, alle 10.30 a i Tigli, ma purtroppo non si può partecipare perché bisogna evitare assembramenti. La nostra storia il 25 aprile, in sei immagini, dalla liberazione di Bologna all'omaggio di Mattarella al Sacrario degli Eroi. Vedete le foto, in ultimo proprio il Presidente Mattarella. Andiamo ancora avanti. Le misure economiche, il governo vara il DEF, muoverà 150 miliardi, l'esecutivo prepara un'iniezione di denaro contro la crisi causata dal Covid. Il virus abbatte il PIL, il prodotto interno lordo. Crollano investimenti e consumi, standard e purse, conferma comunque il rating. E poi i numeri del DEF, PIL, il grande crollo, debito. Alle stelle, avete nella foto il Premier Conte. La regina delle manovre italiane, la storia, mai era stato compiuto uno sforzo simile, neanche nel 1992 col prelievo forzoso. E poi Mattarella, uniti per la rinascita, niente cerimonia in piazza per il 25 aprile, il Capo di Stato ne rilancia il valore. Unione Europea per il pacchetto di aiuti, la strada è ancora in salita. Bruxelles, non arriverà prima di metà maggio la proposta del Recovery Fund e i paesi del nord continuano a porre resistenza, si valuta un'operazione Ponte. E poi retroscena, Conte mette in quarantena il MES, tensione nel Movimento 5 Stelle dopo un voto alla Camera. Adesso andiamo intanto ancora ai titoli positivi, i malati diminuiscono in mezza Italia. 11 regioni registrano dati incoraggianti, una nuova autocertificazione per muoversi tra le regioni dopo il 4 maggio. E poi i contagi concentrati in famiglie RSA. Per il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il dottor Silvio Brusaferro, la situazione epidemiologica è migliorata. E poi bufera sulla cura proposta da Trump. Il Tycoon ha suggerito l'iniezione di disinfettanti e uso di raggi ultravioletti, ondata di critica, era una proposta sarcastica. E vabbè. E andiamo alla cronaca di Teramo. La situazione in provincia sul coronavirus. In 15 giorni contagi spariti e dimezzati i ricoveri. La ASL può pianificare la ripresa dal 27 di esami e visite in ospedali e distretti. Fra 20 giorni arriverà una nuova TAC mobile a 80 strati che sarà posizionata davanti all'ex sanatorio. Tamponi ieri adatri sulla popolazione più esposta e su operatori e pazienti della casa di riposo Santa Rita. Università e il docente Paparella nel gruppo che ha stilato i consigli per l'igiene del cibo. Complimenti al docente, al professor Paparella, che è un'autorità in questo campo. E poi la Vallata del Fino. Zona rossa addio, i sindaci ora non ci abbandonate. Soddisfazione per la revoca delle restrizioni, ma ci sono timori per il futuro. Il sindaco d'Ercole è guarito dopo il secondo test negativo. Si torna a sperare. Vedete la polizia mentre rimuove i blocchi di cemento sulle strade della Valfino. E poi il sindaco di Castilenti a destra, Giuliani, con la mascherina. E ieri nuova ondata di tamponi tra Castiglione, Castilenti, Montefino e Bisenti. Gli amministratori della Valfino chiedono sostegni per la ripresa economica e che l'attenzione sanitaria resti alta. Nessun assistenzialismo, ma servono contributi per poter ripartire. E poi, vediamo qui sopra, speculazioni sui prezzi di frutta e verdura, lo segnala Robin Hood e fa bene Pasquale di Ferdinando e Robin Hood a tenere alta l'attenzione su questo, perché insomma i prezzi sono un po' in libera uscita. E loro sicuramente sì, i prezzi. Noi no, ma i prezzi sì. Il centro-destra Teramano, siamo pronti a dare il nostro contributo per la ripresa. Bravi ovviamente a porsi, come dire, a disposizione. Il medico guarito, mi ritengo fortunato, Castilenti, la storia di Brandi Ferri, contagiato per seguire i pazienti. Cinque di loro sono morti, leggiamo l'attacco di questo pezzo. Mi è andata bene, vediamo da chi è firmato. DP, quindi Diana Pompetti. Mi è andata bene, mi ritengo davvero fortunato, Corradino Brandi Ferri li ripete più volte a puntellare giorni che non potrà mai dimenticare. 67 anni, eccolo qui in foto, medico di base di Castilenti, è uno di quelli che nella zona rossa della Valfino il coronavirus lo ha incontrato per primo. Due tamponi negativi hanno accertato la sua guarigione dal Covid, ma questa è una storia che ti resta addosso per sempre, dice al telefono. Originario di Torricella, da quasi 40 anni medico di base, è stato a Montefino e a Castilenti. Racconta che di pazienti ne ha persi cinque. Per un medico accettare la morte è sempre difficile, dice. E anche in questo caso è così. Ricorda le decine di interventi tra febbraio e marzo. Quando andavo nelle case dei miei pazienti, dice, chiedevo se fossero stati a Milano o altre zone della Lombardia. Mi proteggevo con i guanti, con il camice, ma chi poteva immaginare che fossimo anche noi nel pieno dell'epidemia? Ricordo il paziente 1, un uomo di 50 anni, che fortunatamente ha sconfitto la malattia. I sintomi, l'ansia dei familiari. Quando ho cominciato a vedere che faceva fatica a respirare, l'ho subito fatto ricoverare. E in ospedale hanno confermato la polmonite. Sono stati giorni davvero molto difficili, con la gente che si ammalava, con la febbre che non scendeva, con i familiari spaventati. Ho cercato di tranquillizzare, di dare delle risposte immediate. Penso di aver fatto tutto quello che umanamente si poteva. E anche dopo, quando la febbre lo ha costretto a casa in isolamento, scrive Diana Pompetti, il telefono non ho mai smesso di squillare. Ho continuato a seguire i pazienti, dice. Sono stato sempre in collegamento con i miei sostituti, perché il medico di base ha un legame particolare con il territorio, con la gente. Mi auguro che il peggio sia passato. Oggi spero che anche mia moglie possa guarire presto. Sono tornato ad essere operativo, ad essere un punto di riferimento per i pazienti. Ma questa esperienza non potrà mai dimenticarla, né come medico, né come uomo. E noi non dimentichiamo soprattutto quello che stanno facendo. I sanitari in questo periodo, a cominciare dai medici e dagli infermieri. La vigilanza sulle strade, il questore, i controlli non si fermano, il bilancio di De Simone. I terramani finora sono stati rispettosi di tutti i divieti, ma bisogna continuare a esserlo. I numeri dati dal questore, in un giorno ispezionati 581 negozi e ditte. L'asporto salva la tradizione delle virtù? Beh, ci voleva. Il piatto del primo maggio si potrà andare a prendere nei ristoranti, come molti terramani fanno. Ovviamente una tradizione millenaria, quella delle virtù, in moltissimi lo fanno a casa, ma molti lo prendono, l'hanno sempre prese dai ristoranti le virtù. Filippone, l'assessore, dice bene, ma rispettate le regole. E poi fase 2, crisi imminente, vertice in videoconferenza, organizzato martedì dalla provincia di Teramo. Il Comune rinvia il pagamento dei canoni di case, erpe, negozi. È quello che succede a Teramo. Ancora Teramo, si del Comune all'acquisto di sei nuovi bus urbani. La Giunta impegna un milione e mezzo di fondi europei, i mezzi verranno destinate alle linee più utilizzate, altri 388 mila euro serviranno per un veicolo ibrido e poi il centro da conto di quello che vi dicevo oggi, cerimonia in forma ridotta per il 25 aprile, per il 75esimo anniversario. Pedicone vuole riaprire l'Acquapark. L'imprenditore di Tortoreto, Giulio Pedicone, attende le linee guida del governo. La volontà di ripartire c'è, aspettiamo di sapere come, e complimenti intanto anche alla grinta di Giulio Pedicone. Nuova ringhiera e luci per la passeggiata al Porticciolo. Martinsicuro approvato il progetto esecutivo. Tortoreto, tasse, cosa per pubblicità, se littano a settembre. Rinviato anche il pagamento per le lampade votive. Lunedì il cimitero riapre, mascherine obbligatorie. Avviato i due progetti, Angeli della notte in aiuto di anziane e giovani a Martinsicuro e a Sant'Egidio Carestia, in un video con 70 artisti, l'iniziativa solidale di Angelo Carestia, sempre molto attivo anche sui social, il cabarettista di Sant'Egidio partecipa a Andrà tutto bene. E poi ad Albadriati, che il piccolo coro Amadeus canta un pezzo di Povia. Paesani di legge il 25 aprile, la condanna unanime, lo costringe a dimettersi. Il consigliere subito isolato dalla maggioranza dopo un post su Facebook, il sindaco dice se non se ne fosse andato lui l'avremmo messo all'opposizione. Al suo posto per la lista avverso entra Carina Di Valerio. Arboretti punge, Costantini avrebbe già dovuto cacciarlo, non è la sua prima esternazione infelice. Il sindacato dei balneatori, gli enti rimuovano i rifiuti in riva al mare, lettera a Regione, prefetto e comune, la legge dice che quello è suolo pubblico. E poi allungati i termini di iscrizione al concorso degli Castelli, premiazione rinviata al 2021. Andiamo a Roseto, il 30 torna il Consiglio Comunale con due argomenti pesanti. La seduta sarà a porte chiuse in videoconferenza e chiamata ad approvare i progetti definitivi dei centri di raccolta e del riuso e il regolamento del comitato turistico, previste anche sei mozioni. E poi l'emendamento di recchiuti, norme più snelle per l'organo del turismo. A Pinator trasporti e mense scolastiche, il comune rimborsa. A Silvi, il sindaco per la fase 2, niente commissioni consigliari. E ad Atri, dubbi sul futuro dell'ospedale. Basilico e Marcone chiedono che il centro Covid sia allestito fuori dall'ospedale. Scusate, Atri, preoccupazione anche di Monticelli. Luciano Monticelli, l'ex consigliere regionale e ex sindaco di Pineto. Andiamo a vedere un titolo dalle altre realtà provinciali. A Pescara, coronavirus, l'ospedale, oncologia chiusa a quattro giorni, trovati pazienti positivi, bonificati gli ambienti, ricoverati, trasferiti in altri reparti, tampone al personale. Morta al pronto soccorso una donna di 37 anni e una delle vittime più giovani del Covid in Abruzzo. E poi all'Aquila, Sulmona cambia il lavoro in fabbrica, Marelli si riparte con regole anti-Covid. La novità, misurazione febbre all'ingresso, stabilimento sanificato, mascherine, dispenser di gel e guanti per tutti. E vedete anche all'Aquila ha sconfitto il virus e ora torna in corsia. Storia a lieto fine di Silvia, operatrice socio-sanitaria dopo 46 giorni di quarantena. Andiamo a Chieti. Lo scontro, la CISL denuncia, in ospedale le sale operatorie sono chiuse, il sindacato attacca la ASL di Chieti. La gestione risulta inefficace, tamponi non eseguiti al personale, malati di tumore in attesa di intervento, stessi percorsi per i pazienti infetti e quelli comuni. E poi le pagine della cultura e degli spettacoli, coronavirus fase 2. Ecco, vediamo qui sopra Silvio Araclio e Carla Piantieri. Teramo, sipario chiuso, in attesa dell'autunno. Speriamo negli aiuti il grido allarme di ACS, di Spazio 3 e altre realtà locali. Costi in aumento con il distanziamento sociale in sala. Silvio Araclio dice lo streaming non potrà mai sostituire il rapporto carnale tra teatro e pubblico. Il teatro ha bisogno del corpo, ovviamente ha pienamente ragione Silvio Araclio. In quest'altra foto è l'onora Coccagna a destra e sotto l'attrice Cristina Cartone. E poi oggi gli 80 anni di Al Pacino, dal padrino a Scarface, grandissimo e popolarissimo attore. Guanciale recita Silone per il teatro Sirena. Lunedì prossimo l'attore avezzanese leggerà brani di Fontamara nel primo appuntamento della rassegna online. E poi Lerni e i patigiani in un libro in tv da lunedì su Rai 3, un programma sulla resistenza raccontata dai protagonisti. E tutte le altre notizie che riguardano la tv, le ricette, i tanti modi di cucinare le patate con fantasia, ci fa sapere il centro. E poi lo sport, la Serie A spinge il governo, torniamo a giocare. E poi l'addio a Gazzoni Frascara, rilanciò il Bologna con Baggio e Signori, morto l'ex patron del Bologna, il patron rosso-blu. Due 15 anni pescaresi in lizza per il velista dell'anno, Bellot e Grilli, sì, del circolo svagamente, al terzo posto della classifica, alla vigilia del voto della giuria. E poi la Serie B, campionato fermo, autostima e anzi, il pescara al lavoro con gli psicologi. E poi Antenucci, la mia stagione migliore, finiamola. Il 35enne attaccante del Bari, giuliese d'adozione, tifa per la ripresa del campionato di Serie C. E ancora Europei Beach Handball, la Silvi, due soluzioni a settembre o la prossima primavera. Bene, è tutto per il centro. Adesso ci fermiamo un attimo, andiamo a leggere un messaggio prima del meteo. Auguro una buona giornata e un ringraziamento a tutto lo staff di Super J che ci tiene informati tutti i giorni sul nostro territorio, soprattutto in questo periodo di quarantena, ma si comincia piano piano a vedere la luce in fondo al tunnel. Grazie, ancora buon 25 aprile, ce lo dice Roberto. Grazie Roberto, grazie davvero dal profondo del cuore per quello che ci dice, grazie anche per aver augurato il 25 aprile, anche a lei, grazie davvero. Allora, andiamo a vedere le previsioni del tempo del nostro Marco Di Loreto, una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo a leggere il messaggero e la città. Buon sabato, amici di Super J. Il maltempo dei giorni scorsi è ormai terminato. Il sereno è tornato su tutto il territorio nazionale, ma in generale su buona parte dell'Europa. Intanto un impulso perturbato dal Marocco sta risalendo verso la Spagna e sembra decisa di entrare sul Mediterraneo occidentale. Da qui si spingerà per domani verso le due isole maggiori dove apporterà del maltempo. Su tutta la penisola per oggi sole e temperature miti e solo qualche addensamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica. In Abruzzo sarà un sabato con cielo limpido su tutta la regione. Solo nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti, in particolare sul settore aquilano. I venti risulteranno deboli di direzione variabile ed il mare calma o quasi. Le temperature massime di oggi ancora in leggero aumento e comprese tra 16 e 21 gradi, le minime della notte comprese tra 2 e 12 gradi. A dopo per l'aggiornamento serale. Eccoci qua, ripartiamo con la nostra rassegna stampa, ripartiamo dalla città, dal quotidiano della provincia di Teramo. Coronavirus ancora in calo e ricoveri in terapia intensiva. Secondo giorno consecutivo, senza casi nel Teramano, in tutta la regione. registrati 18 nuovi contagi, quindi il secondo giorno consecutivo. Senza nuovi contagi nel Teramano, in numero di nuovi positivi, in netto calo rispetto ai giorni precedenti. Quella di ieri, pur rimanendo sempre cauti, al netto dei decessi, può essere bollata come una giornata positiva sul fronte della lotta al coronavirus in Abruzzo. Vedete anche i grafici che la città ha messo per spiegare ancora meglio quello che è successo ieri con i casi registrati. La tua ha dimenticato i disabili. Ferrante, mi sarei aspettato che il Presidente avesse affrontato anche il tema dell'accessibilità dei mezzi pubblici. Non è più accettabile, dice Ferrante, che persone in carrozzina aspettino autobus privi di barriere architettoniche. Claudio Ferrante, il Presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate. Poi l'esperto Claudio Damario dice, sono necessari accorgimenti durante la fase 2. Da Lonzo a Crognaleto è partita l'igenizzazione di tutto il territorio comunale. Da Lonzo il Sindaco di Crognaleto. Per il ponte del 25 aprile del 1 maggio abbiamo richiesto anche l'ausilio di un drone per controllare la zona. Marsilio libera la Valfino dalla zona rossa. Emessa l'ordinanza che revoca le restrizioni imposte per più di un mese nei 5 comuni terramani. E poi a Castiglione Mester Raimondo, lo vedete a destra, D'Ercole soddisfatto per la notizia e annuncia anche di essere guarito. E però sempre a Castiglione la decisione ufficializzata nelle scorse ore al suo posto in Assisi Andreoli di Donato si dimette da Vice Sindaco e da Consigliere. Vediamo se ci sono le motivazioni. Non sono chiari, si legge nel pezzo, non sono chiari al momento i motivi che hanno spinto il Vice Sindaco a lasciare il suo incarico, che ha svolto con grande impegno anche nei giorni scorsi, per fronteggiare l'emergenza coronavirus assieme al resto dell'amministrazione e allo stesso Sindaco d'Ercole. Sembrerebbe che alla base della sua decisione potrebbero esserci dei dissidi nati all'interno della compagina amministrativa. Il suo posto di consigliere sarà preso dal primo dei non eletti alle scorse elezioni amministrative, il vigile del fuoco Cristian Andreoli. E poi Castilenti, un grazie speciale agli angeli del Valfino. Il Sindaco Alberto Giuliani, soddisfatto, ricorda l'impegno del personale sanitario della ASL. Sono contentissimo, dice Giuliani, della decisione che è stata presa a fronte della relazione rimessa dalla ASL, una relazione nella quale si dichiara che la situazione è fortunatamente sotto controllo, che sono aumentati i guariti e che i positivi sono in calo. Insomma, siamo rientrati nella media abruzzese, questo anche grazie al grande impegno messo in campo dalla ASL e dal personale sanitario impiegato sul campo. Anche in queste ore sono stati effettuati diversi tamponi, dice ancora Giuliani, nel nostro territorio, in quello di Castiglione, sia a domicilio che attraverso dei checkpoint in strada. Bene, andiamo avanti. Eccoci. Giriamo pagina. Palm, reinventarsi dopo l'emergenza. Il polo di innovazione ha messo insieme 100 interlocutori per ragionare su una ripartenza innovativa. E poi invece, nella parte bassa della pagina, a ruota libera, la rubrica di Gustavo Bruno. Colpa dei Terramani, il titolo, ovviamente vi invito a leggerla. Il cuore dei Terramani batte in silenzio. Una donna nigeriana in grande difficoltà è stata adottata da tante persone che si sono prese cura di lei. L'articolo è di Patrizia Lombardi. E poi Università di Teramo, Paparella, nella task force per le linee guida sugli alimenti a livello nazionale. Casa Artigiani, artigianato in crisi, ben 10.000 lavoratori in seria difficoltà. In Abruzzo si registrano nel primo trimestre 2020, ben 937 cessazioni, appena 528 iscrizioni. 409 imprese in meno. Giriamo pagina. I pro e i contro dell'app di monitoraggio. Lo strumento annunciato è utile per contrastare il contagio, ma deve rispettare rigorosamente la privacy. E poi Diego Di Bonaventura, il presidente della provincia, nella fase 2. La provincia avrà un ruolo di coesione e rilancio. È fondamentale, dice Di Bonaventura, che si viaggi insieme su molte delle questioni poste da sindacati e mondo del lavoro. E poi la giustizia, Tribunale di Teramo pronto per la fase 2, accessi scaglionati, prenotazioni, udienze da remoto. Il presidente dell'ordine degli avvocati dice ripresa graduale. Resta prioritaria l'esigenza di ridurre la mobilità sul territorio ed impedire all'interno degli uffici giudiziari contatti interpersonali ravvicinati ed ogni tipo di assembramento. E per la salute sia allo zonoterapia al Covid Hospital di Atri, riscontrato un sensibile miglioramento dei pazienti sottoposti al trattamento. E andiamo ancora avanti. La campagna Uniti per ripartire scuola 2020 Teramo e City Family e la didattica al tempo del coronavirus a sostegno della didattica a distanza, DAD, 24 assistenti tecnici. Forniranno da oggi e fino al termine delle lezioni un ausilio strutturale alle scuole del primo ciclo. I rinforzi delle nuove figure 6 sono state assegnate alla provincia di Teramo. All'Abruzzo 2 milioni per i device. Nella foto in basso il direttore dell'OSR Abruzzo, Antonella Tozza e poi l'ufficio scolastico regionale. La formazione con ITS Abruzzo Smart Academy per corsi di specializzazione gratuiti. La cronaca o scenità sul 25 aprile si dimette Paesani, è quello che è successo a Giulianova. Buffera bipartisan per le parole del consigliere di maggioranza giuliese che decide di lasciare l'assise, la surroga e il posto di Paesani in consiglio comunale. Sarà preso da Carina di Valerio, che la vedete nella foto a fianco appunto a Paesani. E poi la politica. Zennaro lascia il Movimento 5 Stelle ma pare che nessuno se ne sia accorto, dice la città. E poi Teramo, acquistati 5 bus, prende il via il programma SUS. I mezzi saranno dati in concessione al gestore del trasporto pubblico locale. Verna, l'assessore Verna del Comune di Teramo, lavora sulla mobilità post-emergenza. Tra le possibilità allo studio, una rivisitazione del bike sharing e l'utilizzo dei monopattini elettrici. E poi il lutto addio alla signora Maria, la super tifosa del Teramo Calcio. Ci uniamo alle condoglianze per la famiglia Cingoli. Maria Di Cristoforo è la mamma della nostra collega, nonché avvocato Giussi Cingoli, di Marcello e della sorella Paola. Le condoglianze ovviamente di Super J a tutta la famiglia Giussi. Andiamo avanti. Le rubriche, la rubrica di Marcello Martelli. A Scoliteramo tornano i vecchi confini dei Borboni. Poi la vignetta di Chetti Mattita, effetto lievito di birra spiaggiato a terra. Il personaggio. E poi l'intervento parità di genere non rispettata nel comitato tecnico e nelle task force per combattere la pandemia. E poi la cultura. Eccola qua. L'articolo firmato da Simone Gambacorta. Croce nel giorno del beneficio morale, come definì la festa della liberazione, lo stesso Benedetto Croce. Il filosofo abruzzese visse la liberazione seguendo gli eventi e studiando. Lo ricordano i suoi diari. E lo ricorda Simone Gambacorta in questo articolo. All'Università di Teramo per la liberazione e maratona di letture su radiofrequenza. Incontro in rete la Costituzione ad alta voce, la scelta di Atri. E poi la giornata della liberazione. Celebriamo la festa di tutti gli italiani. L'intervento è di Antonio Franchi, che è il presidente dell'AMPI della provincia di Teramo, il presidente provinciale. Oggi è la nostra vera data di nascita, ha scritto Antonio Franchi. La memoria è l'unico antidoto, a ripetersi, dell'infamia della storia. Nella foto, vedete il senatore Franchi a Bosco Martese, in una foto d'archivio, mentre celebrava appunto una festa della liberazione, probabilmente quella dello scorso anno. Giornata della liberazione, l'emergenza Covid non ferma il 25 aprile. Celebrazione in forma ridotta su tutto il territorio provinciale per le misure di contenimento del virus. E poi c'è un editoriale della direttrice della città, Serena Suriani, dalla liberazione alle liberazioni. E poi andiamo ancora avanti. Lo sport, ripresa del calcio, le schermaglie continuano. Malagò dice, ci auguriamo possano riprendere gli sport di squadra. Sibilia no a blocco retrocessione. In attesa del Consiglio federale, il presidente della Lega Nazionale Direttanti dice, non passerà alcun principio che non sia quello del rispetto dei ruoli e del risultato ottenuto. Il tutto aspettando la decisione del prossimo 5 maggio. Poi ho visto la foto di una bella signora. Vediamo una grande festa oggi a Teramo per i cento anni di Aquilina Marini. Per tutti Lina, tantissimi auguri alla signora. Nonostante la lontananza dovuta al Covid-19, a festeggiarla con l'affetto di sempre sono il figlio Neverso, le nuore Silvana e Gina, i nipoti Emiliano Fabio, Fabrizio e Stefano, i pronipoti Cesare, Beatrice, Alice, Chiara, Matilde, Giulia, Daniele e Sara. Un treguardo importante con l'augurio di tanti altri giorni come questo anche da parte della redazione ovviamente della città. È l'augurio anche nostro. E poi la foto del giorno. Anche Alex Fortier di 6 anni ha giocato e disegnato grazie all'iniziativa della città la pagina del bambino. Ecco una foto del suo bel lavoro, del fantastico disegno realizzato e inviato alla redazione della città. Bene, è tutto per quanto riguarda la città. Adesso andiamo a leggere insieme il messaggero. Abbiamo già visto la prima pagina d'Abruzzo, andiamo all'interno. L'epidemia svolta dietro l'angolo. Solo 18 nuovi casi, fattore R0 verso l'1. L'andamento dei dati consegna all'Abruzzo la prima inversione di tendenza. Si svuotano le terapie intensive negli ospedali, revocata anche l'ultima zona rossa che era quella nostra, quella della Valfino. Sotto l'1% l'indice di positività dei tamponi analizzati. La regione in scia con l'Umbria, ma ci sono anche sei decessi. E poi gli equilibri. Il deputato Zennaro dice addio al Movimento 5 Stelle. Questo però è un aspetto che riguarda proprio la politica. L'ottimismo di Parruti. Va meglio e non temo l'ondata d'autunno. Oh, bravo il dottor Parruti. Il distanziamento ha funzionato, ora combattiamo contro l'area critica delle residenze sanitarie per anziani. E vi ricordo che invece noi nel Terramano siamo andati forti perché, insomma, le case di riposo Terramane, almeno quelle già analizzate con i tamponi, sia per quanto riguarda i pazienti che per quanto riguarda gli operatori, insomma, hanno fatto registrare tutti i casi negativi. Quindi nessun contagio si è verificato. L'arte oltre il virus perché fa ripartire gli stati generali nell'articolo di Antonio Gasbarrini. L'emergenza pescarese muore a soli 37 anni. Allarme oncologia ha chiuso il reparto. Giovanna Sauchella, in cura anche per un'altra grave patologia, è la vittima più giovane del virus. Si apre un nuovo fronte in ospedale, ancora alta la letalità in provincia di Pescara, quattro decessi in un giorno. E dunque la vittima più giovane dà conto il messaggero nell'attacco del pezzo di 37 anni. Nonostante quindi i dati incoraggianti dell'ultima ore con soli 10 contagi e ricoveri ancora in calo, soprattutto una terapia intensiva, il pescarese si conferma il territorio più colpito da questa pandemia. La donna di 37 anni deceduta, Giovanna Sauchella, in realtà era originaria della campagna e precisamente di Telese Terme, in provincia di Benevento. Da anni si era trasferita con il marito Gianluca Pescara per avere forse più possibilità a livello lavorativo. Lei era un ingegnere e la stessa professione svolgeva anche il marito. Poi purtroppo si era ammalata di un brutto male con cui ha combattuto per tanto tempo. Martedì le sue condizioni già molto precarie sono peggiorate e quindi si è rivolta al pronto soccorso del Santo Spirito dove dopo qualche ora è morta. Nessuno sapeva che aveva contratto il Covid, di sicuro non lo immaginava neanche lei, alle prese già con gravi sofferenze fisiche. Dopo il decesso è stato effettuato il tampone e si è scoperto che era positiva. Giovedì è tornata a Telese Terme nel suo paese per essere sepolta fra le persone. A lei, Care, la vediamo proprio qui in un'immagine sorridente, Giovanna Sauchella e invece a fianco a lei Mauro Garibaldi, la vittima di Cepagatti. L'Oasi dello Spirito affittata alla ASL, ecco il contratto che premia la Curia. La Regione pagherà fino a oltre 90 mila euro anche in caso di mancato utilizzo delle camere per i convalescenti. La Sanità 1 a Pescara contro lo stress dei sanitari nelle corsie, l'assistenza telefonica degli psichiatri e occhiali preziosi quanto le mascherine, task force oculistica con Mastro Pasqua. Andiamo avanti, l'emergenza nell'Aquilano, gli ospedali Covid inutili senza assumere personale. Il primario di malattie infettive Grimaldi, primario all'Aquila, dice alto il rischio di costose scatole vuote, investire su tamponi e tracciamento casi, sbagliato centralizzare tutti i test a Pescara. DMC Terre d'Amore, impressionanti le perdite per il turismo, è ancora pericolo di infiltrazione nella fase 2, l'antimafia dice allenati dal post-sisma, il procuratore Renzo, situazioni non sovrapponibili ma abbiamo un'idea di quello che potrebbe accadere. E poi Bauman, l'incontinenza liquida è per l'Aquila, una doppia fatica. E poi andiamo ancora avanti, l'emergenza nei comuni, Valfino, meno contagi, revocata la zona rossa, il presidente Marsilio toglie le misure restrittive in 5 comuni terramani. Il sindaco di Castiglione Messerra e Mondo d'Ercole negativo al virus, giorno davvero speciale, e invece a San Giovanni il contagio da una malata di Pescara nella RSA di San Giovanni Teatino di Chieti. E poi ad Atessa, Sevel e Indotto ripartono l'IRA di RC e a rischio il trasporto dei lavoratori, e dunque è quello che dicono Maurizio Acerbo e Marco Farsa di Rifondazione Comunista. I ristoratori siamo preoccupati, l'asporto non è poi così richiesto. Marco Caldora, questo articolo viene da Chieti, avevo prenotazioni fatte nel 2018, tutto cancellato, il sindaco di Fossa Cesia, la situazione è grave. Andiamo ancora avanti, Pescara, monopattini elettrici, Mascia, Vara, il progetto approvato in giunta il piano per 500 mezzi a noleggio, 16 le stazioni previste, si potrà accedere anche alle ZTL. L'Aquila, cantieri, ripartenza scaglionata, obbligo tamponi e sanificazioni e istituzioni al lavoro per mettere a punto un protocollo per garantire sicurezza, tra le ipotesi prende corpo anche quella di far restare gli operai negli alberghi. Questo è quello che succede all'Aquila, andiamo avanti a Chieti, piazzale rifiuti sequestrati, Bellia finisce sotto inchiesta, scatta l'accusa di incendio colposo, un anno fa divamparono le fiamme e poi tamponi, troppi ritardi, l'appello di ben 47 sindaci, l'articolo arriva da Lanciano. Siamo a Teramo, cibo da asporto e verdure, pulizia e lavaggio accurato. Il professore Antonello Paparella è uno dei quattro esperti della Task Force nazionale ed è un docente dell'Università di Teramo. Le buste della spesa non vanno mai poggiate sul marciapiede e portate a casa. Il Covid-19 non è stato ancora sconfitto e nella fase 2 sarà importante la massima igiene come adesso. Molto importante, ce lo ricorda dunque il professore dell'Università degli Studi di Teramo, Antonello Paparella, che c'è nella Task Force costituita dal gruppo Sanità pubblica veterinare e sicurezza alimentare dell'Istituto Superiore di Sanità. Il docente, scrive Valentina Procopio in questo articolo, il docente degli alimenti è uno dei quattro esperti nazionali chiamati a fornire la propria consulenza e quindi ha messo a punto, assieme ad altri esperti, il documento dal titolo Indicazioni ad Interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia Covid-19. Vediamo che dice, meglio evitare di portare con sé una propria pentola, ecco, quando si farà, chiede Valentina Procopio, i teramani non dovranno rinunciare alle virtù, il piatto tipico del 1 maggio cosa consiglia? Meglio evitare di portare con sé una propria pentola da consegnare al ristoratore e poi magari riportarla a casa e servirla in tavola. Allora, consiglio piuttosto di utilizzare un contenitore useggetta. Una volta a casa bisogna lavarsi le mani, togliere il cibo dal contenitore, metterlo in uno pulito, rilavarsi le mani prima di mangiare. Ovviamente è essenziale anche la pulizia del luogo in cui i cibi vengono preparati, sia a casa che al ristorante, e sono essenziali anche i metodi di conservazione a prescindere dal virus. Molti si chiedono se è giusto, dice ancora Valentina Procopio, se è giusto acquistare la verdura sfusa e se ci sono dei rischi. Fortunatamente, risponde Paparella, si tratta di un virus abbastanza fragile, anche se facilmente trasmissibile. La cottura, al di sopra dei 63 gradi, permette di uccidere il virus. Se si tratta di verdure da consumare crude, come l'insalata, va effettuato un lavaggio accurato, magari anche utilizzando disinfettanti a base di cloro, come la muchina. Quali gli errori più comuni che facciamo quando andiamo a fare la spesa? Le buste della spesa non vanno poggiate sul marciapiede e poi portate a casa. Una volta dentro, meglio anche non tenerle sul pavimento, ma su una sedia o su un tavolo, che poi andranno puliti. I guanti sono utili quando stiamo al supermercato, soprattutto quando ci ricordano di non toccarci viso, occhi e bocca, ma bisogna fare molta attenzione a non prendere nemmeno il telefono e non portarlo alla bocca e alle orecchie con i guanti con cui abbiamo anche toccato il carrello al supermercato. Non serve invece sanificare le confezioni, ad esempio quelle di pasta, latte, farina. Si corre invece il rischio di utilizzare disinfettanti che possono venire a contatto con i prodotti da mangiare e creare problemi se ingeriti. E per le consegne dei cibi a domicilio, come la pizza, si può stare sicuri? Chiede ancora Valentina Procopio al professor Paparella. Anche in questo caso bisogna prima lavarsi le mani, rimuovere la pizza dal cartone con cui ce l'hanno consegnata, metterla nel piatto magari aiutandosi con delle posate che poi vanno lavate e lavarsi le mani prima di mangiare. Certo, è una maratona. Abiti e scarpe vanno sanificati? È buona regola togliersi le scarpe in casa. I vestiti non vanno appoggiati, ad esempio, sul letto e non bisogna scuoterli. Vabbè, stiamo attenti insomma. Ha reso il Mazzini un focolaio, Mattucci non all'altezza vada via. La Commissione, il Presidente della Commissione Sanità al Comune di Teramo, Vincenzo Cipolletti, ha chiesto alle dimissioni del Direttore Sanitario della Asla di Teramo, Maria Mattucci, le si addebita una conduzione Covid-19 non all'altezza della situazione, avendo portato il Mazzini a essere un focolaio. Come ripete il Sindaco Gianguido D'Alberto, che sottolinea durante la seduta al Parco della Scienza della Commissione, come fosse arrabbiato. L'80% degli 830 contagiati nel suo territorio viene da lì, legato a situazioni che arrivano dal nosocomio tra medici, infermieri e loro familiari. E il primo cittadino accusa la Direzione Sanitaria di non aver svolto i controlli da subito o di aver fatto tamponi senza strategia, che con i ritardi hanno comportato a pazienti oncologici di non aver avuto le cure in tempo. Teramo si è ritrovata con una situazione che non gli appartiene, dunque. Questa è l'accusa da parte dei Cipolletti e anche del Sindaco di Teramo nei confronti della Direttrice Sanitaria Mattucci. L'articolo è firmato da Maurizio Di Biaggio. Ancora, minaccia il vicino di casa. Questa è la cronaca. ha arrestato un ex operaio. E poi il 25 aprile d'Alberto si impunta a Teramo cerimonia per la festa. Nel 1943 Bosco Martese rappresentò il primo scontro in campo aperto avvenuto in Italia con i nazisti invasori. La battaglia più cruenta e durò a lungo, spiega ancora una volta il 25 aprile il segretario provinciale dell'Ampi, Antonio Franchi. Ma com'è che il Sindaco si è impuntato? Vediamo un po' dove c'è questo passaggio. Quindi questa del 2020 sarà una festa di liberazione diversa, ristretta, in diretta a Facebook, relegata nelle radio dell'Università del Rettore Mastrocola, con gli auguri del Prefetto Gabriella Patrizzi strettamente online e col lockdown dappertutto. Con la paura del domani e con la cassa integrazione che ancora non arriva, come fanno notare i sindacati? Passando per la presa di distanza del Sindaco di Giulianova verso un suo consigliere che ha oltraggiato la festa nazionale. Il Sindaco di Teramo ha chiesto ed ottenuto dalla Prefettura l'autorizzazione a svolgere, pur nelle modalità consentite, una cerimonia per onorare la ricorrenza del 75esimo anniversario della liberazione. Ore 10, Sindaco e Presidente Ampi, ovviamente a distanza, in raccoglimento al monumento al partigiano in Largo Madonna delle Grazie. Alle 10.30 si sposterà presso il monumento ai caduti in Viale Mazzini, dove verrà deposta una corona, ma ovviamente senza partecipazione del pubblico, della popolazione. Denigra la resistenza, consigliere comunale si dimette, consigliere si dimette, è successo a Giulianova, l'articolo è di Francesco Marcozzi, l'ultimo post gli è risultato fatale, in passato aveva scritto altre cose sopra le righe e con un linguaggio, come dire, colorito, ma stavolta con lo stesso stile, tra virgolette, scrive Francesco, è stato accusato di oltraggiare i valori della resistenza e da ieri, proprio alla vigilia della ricorrenza del 25 aprile, Simone Paesani, appartenente alla lista verso che ha appoggiato il sindaco Ivan Costantini, non è più consigliere comunale, con una lettera di tre righe rassegnato alle dimissioni. E quindi, poi racconta tutto quello che era successo Francesco Marcozzi in questo articolo. Bene, andiamo verso la conclusione. Pescara, dovevo venire a Pasqua, l'ex capitano Emanuele Cascione, tra la paura del Covid in Romagna, e ricordi, avevo già prenotato l'albergo, poi tutto bloccato, ringrazio Zeman, e Difra, Magnero vuol giocare gol, salvezza e rinnovo, e poi calcio solidale, Papponetti subito fondi alle società, e per la pallanuoto senza piscina, allenatori disoccupati. Teramo Calcio, verso lo stop, l'articolo di Ania Cantagalli, 52 presidenti su 60 sono con Ghirelli, anche se l'ultima parola sarà di gravine. Intanto Fiore del Teramo, che si allena a casa in questa fotografia. Toto allenatore, anno prossimo spuntano Modica, Scienza e l'ex Pescara, Luciano, Zauri. E poi la serie D, Paris, nove giorni tutti dimenticati, il presidente dell'Avezzano, ma come si fa a non dichiarare ufficialmente chiusa la stagione? Bene, noi possiamo chiudere, qui invece la nostra segna stampa, la nostra trasmissione, io vi ringrazio per l'attenzione, vi agaro una buona giornata, una buona festa della liberazione, vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione, anche oggi, anche oggi che è un giorno di festa, ma noi lavoriamo come ogni giorno, alle 14, la prima edizione del nostro telegiornale, alle 15.30, il programma in diretta pomeridiano J-Live, dalle 15.30 alle 17, alla 19, la seconda edizione del TG. Grazie, buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti.